Mister Dell'Olio, un ex tra l'altro perché sei stato ad Agnone, hai fatto anche benissimo con Pino Di Meo, adesso stai a Vasto in questa nuova avventura, hai ritrovato anche tanti ex amici come quelli dell'Agnone e alla fine è uscito un pareggio, un pareggio che forse tutto sommato è anche giusto. Innanzitutto è una tappa della mia vita che ricorderò per sempre, in questi due anni che ho vissuto ad Agnone ho avuto veramente l'opportunità di conoscere le persone e tantissime persone che veramente mi hanno fatto capire il valore della vita, sono ovviamente delle persone favolose, quelle di Agnone. Nel suo tempo purtroppo il calcio ti mette di fronte a quelle situazioni, io adesso sto con l'Avastese e pensavo solo all'Avastese, però giustamente forse c'è qualcosa di rammarico da parte nostra che nell'insieme della partita qualcosa in più avremmo rimeditato noi, però va bene così, ritornare dopo 40 giorni non è facile. Per voi è importante proprio ritornare, vi siete allenati tanto, avete sgobbato tanto, soprattutto adesso chiedete continuità a questo pareggio con l'Agnone, però all'orizzonte c'è già la gara di domenica ad Aprilia. Sì dai, perché non era facile frontare a questa l'Agnonese, l'abbiamo vista in televisione, l'ha parlato con Vasto Girardi, si è ripresa, psicologicamente anche come discorso di squadra, per cui vedo che adesso tutte queste saranno tutte difficili, cominciamo già da domani a pensare all'Aprilia. Mister, hai fatto da Pagnone, Termoli, adesso Vasto, insomma questa è la tua seconda casa alla fine, questa zona d'Italia. Sì, veramente sono posti favolosi, dove ti ho detto anche prima sono stato veramente bene, le ricorderò per sempre perché veramente quello che mi ha fatto il piacere è essere ricordati da tutte le persone, sia da Agnone, di Termoli, anche di Chieti, quelle che sono, per cui è un piacere veramente.